Ok, immagino dovremo rifare il giro dall'altro lato. Niente di troppo grave. Almeno spero. Di questi tempi, le certezze non fanno più parte dei miei pensieri. Le ho abbandonate da quando questo casino è cominciato. Abbiamo ancora delle persone che non vorrebbero farci entrare dalla porta d'ingresso. Ma a noi in realtà interessa il cimitero. Quindi potremmo ripassare per quel passaggio che ci siamo comprati precedentemente. Sempre con questi salti molto poco fortivi per i miei gusti, ma ok. Quindi, loro non credo escano dal cancello. No, esatto. L'avevamo ucciso tutti? Uh! Decisamente un bel colpo. Ora... Ero convento avessimo ucciso tutti là. Che siano tornate. Mmm! Mi fa strano, onestamente. Ah, temo di qui non si possa passare. Oh, sì, si può. C'è solo una enorme trappola. Un enorme trappola è qui dietro? Ah, metallo. Beh, qualche soldo. Che diavolo si è risvegliato? Ho sentito una specie tipo quei cani. Bene, diciamo che sicuramente non mi fa piacere... Ah, lì sono le trappole. Eccolo. Mi ha visto? No. Ho evitato il... ...cavo, stranamente. E qui c'è un amuleto, a quanto pare. Che cercheremo... ...di prendere. Sì, il cavo che sta sotto terra. Si sono... ...inutilmente... ...arrabbiati. Mmm. No, immagino sia il caso di... ...ignorarli. Però... ...dovrei avere accesso al... ...cimitero. E la leva ce l'ho, chiaramente. Però dovremmo evitare i cani. Che stavo dicendo? Vediamo se ce la facciamo in tempo. Daud sta arrivando. Quindi Delalia mi ha ordinato di disattivare l'interruttore della bara... ...e di posizionarlo nel capanno in giardino. S. E scendiamo velocemente. Velocemente. Si chiude per caso? Ok. Beh. Ok, in un modo o nell'altro abbiamo evitato... ...i cani. Questo non... ...vol dire che riusciremo a evitare i topi. Ma è qualcosa. E qui abbiamo un amuleto. Che sta facendo qui questa deriva? Oh, cavolo! Avete capito che... Ah, penso sia la statua quella. Ed in quanto stato adesso mi troverà... Aia. Cosa... ...è successo? Per qualche motivo non sono stato danneggiato. Allora, ripetisco. Io qui non ci sto. Mi ha visto. Mi verranno cani. E zitta. Dove non lanciate. Sì, ok. Mi ha visto. Sa che sono entrato qua sotto. E questo non è... ...positivo. Mettiamola... Mettiamola così. Sono un altro spirito virichino. Un altro spirito virichino? Va bene. Se questo è il modo in cui tu vuoi interpretarla... ...a me... ...sta più... ...che... ...bene. Qui le indicazioni per la cripta sono un po'... ...diciamo imprecise. Perché io qui non sto facendo assolutamente nulla. Ma... ...posso continuare di qui? Andiamo alla villa? Direi di... Sì. Anche perché siamo... ...entrati nella cripta apposta. Stanno pianificando qualcosa che minaccia tutto l'impero insulare? Sì. E abbiamo due amuletti d'osso... ...di cui uno corrotto... ...e una runa. Hm. Sempre cose da prendere. L'importante è non prendersela... ...in un certo qual posto. Che abbiamo dei... ...parecchi cani. Pensavo che il distretto sommerso fosse in rovina. Chi è un uomo? C'è un uomo? È la prima voce maschile che sento... Ah no. O era la mia voce? Che diavolo? Perché sono così allarmate? Forse perché mi ha visto... ...se distruggo direttamente il cane... ...ho finito i... ...ho finito i... ...no, ho finito i tardi. Questo... ...è... ...male. Questo è male. Non era previsto che anche l'altro si svegliasse. Ma... ...ma si sia svegliato. Appunto. Volevo portarmelo via... ...e eliminarlo prima che... ...insomma... ...venisse risvegliato. Si è girato però. ...e questo mi rappresenta che è un ottimo momento per distruggerlo. Ora... ...quelle... ...quelle... ...forse era una sola. Ah, forse erano da piazzare i cani. Ristituir... ...ricostituente. Usiamolo. Dove... ...stanno? Non saprei. Altri cani là. Non ci... E lì c'è qualcuno a terra. Forse quello è l'uomo che sentivo parlare. E da dove sono entrato? In realtà... ...qui dietro abbiamo un bel po' di cose. Fra cui delle chiavi. Comunque non possiamo accedere a quest'area. Allora, io avevo visto... ...lì abbiamo delle scale per salire. E va bene. Va benissimo. Ma... ...se non erro... ...non c'era qualcosa per... ...andare su... ...ecco da qua. Era la stessa cosa che salire le scale? Ah... ...mi immagino proprio di sì. Ora... ...gli amuleti sono in quella direzione. Per cui per ora... ...vorrei esplorare di qua. Ancora questa tipa. Non ho d'arte, è vero. Ho loro che sono silenziosi. Per ora mettiamoli all'uno. Essere sparita. Maledetta. Allora, di qua è il corrotto. Ma ci sarà qualcosa... ...non rendermelo così facile? O forse no. Vediamo che fa. Statuario. Se rimani fermo i nemici non possono vederti... ...a meno che non stiate combattendo. Svantaggi il mana non si rigenera. Questo, ragazzi, è molto interessante. E tra l'altro ha anche altri due slot. È vero, ho preso l'upgrade. Il mana non si rigenera. Eh... Un'altra tipologia... ...forse per Corvo sarebbe stato utile... ...per come lo stavo utilizzando. Qui... ...un po' meno. Qui un po' meno, ma è molto bella. Anche soltanto l'idea. Ma dicevamo... ...ho altri due slot. Per cui dardi rinforzati... ...e quello che ci dava molti colpi... ...visto che abbiamo finito i colpi... ...era... ...pupupupup... ...no. Cos'è oppressione? Ah, quello che abbiamo appena preso. Vin... No. Vinci molto facilmente i contrasti con la lama. No. Questo è qualcos'altro. Mi interessava... ...saprofagia. Munizioni in gran quantità. Che ci mancano sempre queste munizioni. Questo potere è quello che utilizziamo più di tutti, comunque. E utilizza mana. Per cui già soltanto utilizzare questo... ...con statuario... ...ci farebbe finire il mana molto velocemente. Ci costringerebbe... ...se stante. Ah, soldi. Ci costringerebbe a utilizzare molti rimedi... ...di Piero. Che non è detto per forza che sia... ...un vero... ...problema. Questi rumori sono sempre piacevoli da ascoltare. Potrebbe anche valerne la pena. Però dovremmo limitare molto di più l'utilizzo... ...ell'occhio dell'oblio. Ci si potrebbe... ...effettivamente pensare. Ora vediamo... Oh, un sacerdote. Un avvertimento sui amuleti d'osso corrotti. E questo sarebbe da leggere adesso, perché sarebbe interessantissimo. Leggeremo un'altra volta. Gli ordini del sacerdote. Fratello Pratcliffe, sei incaricato di sorvegliare il distretto Macho Heaven e le ville circostanti. Recati immediatamente sul posto e segnala tutte le tue scoperte all'ufficio dell'alto sacerdote. Se dovessi rilevare tracce di organizzazioni eretiche, chiedi rinforze e non tentare a gestire da solo il problema. Ricorda, con l'aiuto delle costrizioni non puoi fallire. Sacerdote Cranton. Beh, in questo caso... ...noi come le streghe siamo ugualmente nemici dei sacerdoti. Interrogatori del sacerdote. Non sono riuscito a scoprire molto da questo. Era ben addestrato. Dagli impasto e il suo ex compagno non ha sortito alcun effetto, se non fargli emettere suoni inutili e caotici. Impasto? Cioè gli hanno fatto mangiare un atto sacerdote? Ci riproverò domani, a meno che non diventi troppo violento. In quel caso non avrò altra scelta che sopprimerlo. Lo trattano come una bestia. Ammoleto addosso, il salto omicida ripristina un po' di salute. Ma al momento non ci interessa. Stanno dicendo tutte le costrizioni. Sì, fama divoratrice, visto che hai mangiato il tuo ex compagno. Le sette costrizioni sono menzogne. L'alto sacerdote è fuori di una lurida cagna. Oddio. Le sette costrizioni sono menzogne. Menzogne. È uscito parecchio. Menzogne. Che ti è successo? Io accuso... ...accuso gli oracoli. Gli oracoli. Loro hanno visto. La giovane Coltwin è la chiave. La ragazza del quadro. Dov'è Delilah? Ecco, e lo fa stare zitto. Ovviamente. E queste erano le mie lame veloci, ricordate? Hanno avuto effetto. Comunque, lo hanno zettito prima che potesse parlare. Ovviamente. Troppo facile, se no. Troppo facile. A noi non piacciono le cose troppo facile. E abbiamo di qua un altro amuletto e una runa. Non lo sai? Ha finito il ritratto delle rete. È perfetto. La fase finale è già iniziata. Cosa implica se lei fa un ritratto? Allora, non è già nell'obbligo. Ha qualche potere su di lui se fa un ritratto? Sì, ormai non può. Pazienza e duro lavoro saranno premiati. Che ne è stato di menina? Delilah e la sua congrega stanno pianificando? Sì, ma... Delilah ha uno studio da qualche parte nella villa. Sembra che all'interno ci sia qualcosa di valore. Non sarà. Ordine di Delilah. Ho ordinato di posizionare la lanterna nel mio studio, nell'ala Ovest. Usatela per entrare nel dipinto solamente in caso di estrema necessità. Io sarò impegnata nella preparazione del rito e non dovrò essere disturbata. Qualora Dato si facesse vivo, confido che riuscirete a occuparvene. Delilah. Quindi... C'è un quadro... Diavolo, diavolo, diavolo. Un secondo, signore. A distanza non mi serviva qualcosa. Torniamo indietro di qua. Eccovi. Ok. Qui ci sono un po' di archi esplosivi per voi, signore. Dove stanno le altre? Sono esplose senza che me ne accorgessi? Non credo. Beh, no. Invece penso di sì. E questo lo posso raccogliere. Adoro gli archi esplosivi. Sono veramente ottimi. Queste sono scese da qua sopra appena ho letto di Delilah. Probabilmente. Interessante. Comunque sì, stavo dicendo... Ehm... Oh. Prendiamolo. Che quindi ci sta un quadro dove si può entrare, che è una specie di mondo parallelo utilizzato da Delilah. Che ricorderà vagamente... Un certo livello di Dark Soul, credo, ai più. Se lo ricorda a me che non ci ho giocato. Figurarsi a voi che magari ci avrete giocato. E... Là dentro, praticamente, può fare... Dei riti che immagino non possa fare all'esterno. Oppure... Lo può fare anche all'esterno, ma quello lo considero un luogo ancora più sicuro. Perché prima bisogna riuscire ad accedere alla lanterna. Così la chiamata. Che è stata messa nel suo studio. E da là poi... Spostarsi ulteriormente nel suo mondo. Sanguinaccio Serconiano. A molti fa schifo il sanguinaccio. Io lo trovo in realtà... Buono, devo dire. Sbattuto con delle patate o con qualche altro... Una preparazione un po' più elaborata. Chiave di Bridgemore per un amuleto d'osso. Amuleto d'osso che è cuore di manzo. Il tuo mana massimo è leggermente aumentato. Non troppo utile al momento. Anche se sarebbe utile... Ah, vedi. Con quell'amuleto ci sarebbe un bel po' di combo per aumentare la ripristina del mana. Tipo mangiando. Eh, ci si potrebbe fare una cosiddetta build attorno. Soltanto per quell'amuleto corrotto. Sarebbe molto interessante, ma ci dovrei mettere un po' più tempo di quello che mi piace. L'avevo già visto questo? Non ricordo. Comunque, la runa è qui dietro. E penso servirà sempre la stessa chiave di... Bridgemore? Brigmore? Niente, mi riesco ad adentrarmi la pronuncia corretta. Cos'è questo? Un cane? No. Runa e rimedio spirituale. Che siamo pieni, per cui ne usiamo uno per prenderlo. Il rito del dipinto. Ah, aspettate. Il bersaglio del dipinto della possessione deve essere situato sopra l'altare. Quindi il dipinto già l'ha fatto. Al termine della preparazione, la persona che celeberà il rito dovrà astraiarsi sull'altare. Se tutto sarà stato preparato correttamente, il celebrante enterà nel corpo del soggetto del dipinto. E in questo caso quindi sarà Emily. Dovrebbe essere Emily, a quanto abbiamo capito. Attenzione, il soggetto del dipinto deve essere il bersaglio della possessione. Qualsiasi altro dipinto potrebbe intrappolare il celebrante. Quindi ci basterà cambiare il dipinto. Chiaro. Tutte queste minestre ordenti. Cosa ci dovremmo fare? Non è chiaro. Quindi, ora, se dovessimo vedere i nostri obiettivi di missione... Lo studio di Delilah. E lo studio di Delilah... Quale diavolo è? Fatemi mangiare questa cosa solo per toglierla da... Qui... Beh, non mi pare questo lo studio. Forse là sotto... Quella era una trappola. Forse dovremmo andare dove stanno ancora delle persone. Ho sentito un... Teletrasporto. Possibile? Qualcosa ho sentito. Queste due che fanno? Le odio questi copiotti di trasportare. Appena voglio ucciderle. Non è corretto. Non avevo no motivo di trasportarsi. Hanno solo aspettato che mi avvicinassi. Ma anch'io sotto ai trasportarmi. Vorrei mettermi proprio dietro... Che diavolo? Che diavolo veramente? Non mi ha neanche attaccato. Non sono le tardi che avrei voluto avere, ma... Mi ha fregato. Ci sono rimasto di cacca. Nettamente di cacca. Non ho proprio capito perché ha fatto tutto questo e non mi ha attaccato soprattutto. Stia buona, signorina. Ah, l'ho lisciata. La signorina è già arrivata qua? Seguitelo! Mi sta lì dietro. Mi sta lì dietro. Questo mi ha fatto male. Mi stanno bene anche le stordenti in questo momento. No, ho sbagliato. Tasto. Ora, ci sono delle persone stordite. A terra. Non riesco neanche a vedere per quanto si mimetizzano. Signorina. Grazie. Oh, è stata molto combattuta. C'è qualcuno che ancora mi cerca, dato che pare che mi voglia cavare gli occhi. Oh. Ci ha restituito... Dardi. Abbiamo quattro dardi al momento. Ok. Torniamo con dei dardi un po' più letali. Pure questo utilizzato, ma non del tutto. La signora qui? Oh, c'è ancora qualcuno là. Sono in tante qui, eh. Vediamo se ti asportarsi... ...la mette in allarme. No. Vene disgustosa, ad ogni modo. Ora, immagino che tutto questo ci stia portando in un... ...qualche modo più vicini... ...allo studio. Ok. Che altro abbiamo qua sopra? 150 monete... ...che ci fanno molto comodo. E qui è tutto chiuso. Ok. Che cos'è che non possiamo usare? Reservo di Costituente. Riflessioni di Delilah. Tieni notte ho lavorato nel mio studio fino a tardi... ...e ho ultimato il dipinto di Emily, appunto. Quando Daud l'ha rapita, ho avuto il terrore che conoscesse già i miei piani. A quanto pare l'ho sopravvalutato. Grazie. L'ha consegnata ai cospiratori. Che idiota. Quando la giovane Emily salirà sul tronno... ...dietro quegli adorabili occhi castaneci sarò già io. E... ...la cosa non so perché non mi fa piacere. Ma in effetti non c'è un motivo troppo razionale per cui dovrei... ...difendere Emily. ...se non il grandissimo senso di colpa che ho per aver ucciso sua madre. Mi avvisso e si teletrasporta. È sempre così che funziona. E poi spariscono. Che diavolo fanno queste streghe? Si comportano in un modo che non riesco a capire. Cioè, oltre che rendermi... ...fin troppo facile... ...asciderle. Anche se riesco a parare molto male. Mmm. Sì, dovrei migliorare molto nel combattimento, ma... ...ci penseremo un'altra volta. Pare con notte, spariscano... ...e si radunino qui. Lì c'è una trappola. Che era prevista... ...una persona veramente sbadata. E qui altre trappole. Addirittura qui ci sono... ...stiti serbatoi... ...penso siano messi per essere esplosivi. Nel caso che uno... ...passi di qua... ...loro sparano... ...questi esplodono... ...e finisci in... Nel fuoco incrociato! Cosa mi ero perso? Maledizione! Maledizione! La superbia... ...dovrei assolutamente eliminarla. Sì, sì, dovete essere sicure. Ora con molta calma... ...la mente continua a giocarmi in brutti scherzi. Con molta calma... ...direi che potremmo utilizzare un sistema un po' più... ...hardcore. E esplose in faccia. Questo è male. Speriamo che i loro raggi di trasporto non arrivino qua. L'idea era buona di aspettare per farle esplodere... ...sono morte? ...fino all'ultimo secondo... ...in modo che gli esplodesse... ...in faccia. Peccato che... ...è esplose nella faccia mia. Non era l'effetto desiderato. Mettiamola così. Si sono teletrasportate via o sono morte? Non lo riesco a capire. Non ci sono cani qui. Qui... ...sono tutte tele... ...per quadri. Ah. Ok. Ieri notte Brunilde è venuto a trovarmi nel mio studio, nell'Ala Ovest. Stavo ultimando il dipinto rituale della giovane Lady Emily. È detto che una delle nostre ragazze si è fatta catturare e interrogare nella prigione di Coldridge. Cioè nonostante sembra che Daud sia all'oscuro dei miei piani. ...lo ero. Adesso non più ma... Ah, alla ovest. Ok. Di là. Dobbiamo tornare indietro. Cosa mi ero perso? Mi ero chiaramente perso qualcosa. Oppure le indicazioni non erano abbastanza... ...corrette. ...corrette. La roba è scontato che... ...abbia ucciso... ...tutti... ...no. Quest'area non c'ero stato. Qui sì. Anche qui. No, non voglio andare all'esterno. Errore mio. Errore mio. E ancora non ho trovato la chiave dell'alla ovest. Questo è il problema. Forse avevo modo di passarci da lì. Non da qui sicuramente. Questi salvataggi automatici mi stanno snervando. No, non ho modo di passare all'alla ovest. Oh. Li lascerò pasteggiare al momento. Da dove ho trovato il... ...da qui? Ah, forse era da qui. Che diavolo diverso era? Chiave della libreria richiesta. Troppe chiavi. Per i miei gusti. Oh. Altri che se teletrasportano in continuazione. Oh. Beh. Ci si è aperta una... ...nuova area. Cioè là, la ovest. Mi pare che... ...queste streghe... ...non vogliano saperle di morire. Perché mi rende la vita un po' complicata? Perché questo vuol dire che io devo ucciderle. Un numero infinito di volte. Qualcuno dovrà pur farlo. ... ... ... ... Grazie.